Sono stati raccolti e sistemati all'interno della piccola biblioteca allestita nei locali dell'Infopoint della Proloco Nissena, cioè l'ex Circolo dei Nobili, libri che sono stati donati da privati cittadini e librerie nel corso degli ultimi mesi. Numerose infatti le adesioni all'iniziativa della Proloco Nissena Reading CL, cominciata la scorsa estate grazie anche alla collaborazione di altre realtà come Rotaract Club di Caltanissetta e che prosegue ancora. Al momento tra gli scaffali ci sono circa 600 testi a disposizione degli utenti, che possono soffruirne anche all'interno della sala dedicata alla lettura. Il progetto Reading CL vuole favorire la lettura, vuole che i ragazzi soprattutto si avvicinino nuovamente alla lettura di un libro fisico, quindi di un libro che si può toccare veramente con mano e poter sentire anche l'odore della carta stampata, una cosa che oggi sembra veramente rara. Ormai siamo abituati effettivamente a leggere molto online piuttosto che sfogliare un bel libro. La storia di biblioteca raccoglie libri di diverso genere, dai romanzi ai saggi ai libri per ragazzi, quindi ce n'è veramente per tutte le età. Tra l'altro all'interno del punto informativo abbiamo dedicato una sala alla lettura, ovviamente dal rispetto della normativa anti-covid attualmente in vigore, quindi ingresso con il solito Green Pass, però diamo la possibilità a chi vuole anche consultare dei libri su Cattarissette, dei libri storici di architettura o di altro genere, può tranquillamente venire qui all'interno dei nostri locali e poterli sfogliare e consultare, o addirittura studiare. Vi ho dovuto dedicare questo spazio, soprattutto agli studenti universitari. Inoltre è possibile portare questi libri a casa, non tutti ovviamente, ma un libro per volta, si può tranquillamente prenotare la disponibilità del libro tramite il nostro sito, è presente anche un modulo di registrazione, dove sarà possibile richiederlo e poterlo venire a prendere fisicamente all'interno dei locali dell'Infopoint.